Riprendiamo con l'ultima match, l'ultima match di L'ultimo passaggio per Righelli al dente, signore e signori un bell'applauso per Luca Rigogli con Massimiliano, Sardino con Sardino Innanzitutto, il primo passaggio per Manuel e Vecchia, il primo passaggio per Manuel E' Tonella E' Tonella E' Tonella E' Riano E' Ria E Martorelli decisamente a cantore di uomo giù, questa volta il pane Arriva, vai, incorgiamo lì, Martorelli Sperti di dare anche il passaggio al vento con la vettura Martorelli, Gornella, che va, ancora qua, è di tanto qualcosa, è di distante Gornella rispetto a me E Martorelli, anche lì al vento, velocissimo Signore e signori, al vento, non c'è un pauso, al libero, non c'è un pauso Ooooooh! va quasi a capottare dentro la vettura impettata poi non so come ha fatto se sarà il vento se ne inserisce se ne inserisce se ne inserisce la vettura ferma e patina in chiotro la vettura mi è sposta attenzione va scivolando in chiotro quasi puntandosi è sposto occhio ora è arrivato in fondo ma che prevedo di nuovo l'audio sposto che riprova secondo tentativo sono arrivato Luca Fontanini è quello di qua un tuo passaggio a te un po' di pausa il primo passaggio Un bel applauso al polonese Silvio Berlusco che va da Fondola da San D'Oruo. Simone Lampranchini con Sabina Alizza. C'è un bel applauso al polonese Silvio Berlusco. Poi poi applauso al polonese Silvio Berlusco. E' un bel applauso al polonese Silvio Berlusco. eh? aspetta la porta che c'ho la porta porca boia aspetta vai ahahah hai salito ehi Renato Reggiani che fa? in una retromarcia da paura Renato Reggiani cosa ha fatto? schiamparsi in cima al dente per liberarsi improponibile proprio e ritorna nuovamente sulle quattro ruote cosa combina Renato Reggiani in vettura Zerma i piedi del dente ehi baby esatto con vettura in mezzo al dente infinito quasi perché aduncarsi nooo bravo bravo cosa ha fatto? venturullino a chiesa Renato Reggiani si è nato schiampare è nato schiamparsi dentro il terrapiero dentro marcia perché tu ferra fuori era un po' nebbioso nooo ha spaccato la ruota la ruota vediamo come succede perché sta arrivando Alberto Morino attenzione ah numero critico vai 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 Il numero raddello, 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 il numero raddello. E' un po' di gastri del fuoristrada a livello nazionale, ed è piaciuto che andano qua. Ecco, non si può fare, non si può fare, non si può fare. Un affetto, signorizzini, un bel applauso. E' un po' di gastri del fuoristrada a livello nazionale, ed è piaciuto che andiamo qua. Salutiamo le vidente, è l'ultimo passaggio per questo equipaggio, per questa coppia, che si aspetta quello che abbiamo fatto da più. E' un po' di gastri del fuoristrada. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.